Alla fine eccoci qua a parlare di Sonic Frontiers. È giunto il momento della recensione e ragazzi, Sonic Frontiers è stata una grande scommessa. Un titolo che abbiamo conosciuto nella maniera forse più sbagliata possibile, con quel IGN First che mostrava un gameplay, beh, terrificante. Un Sonic che si muoveva lento in questo mondo spoglio, con questi pop in ovunque gli elementi a schermo e soprattutto con una musica da funerale. Insomma, gli elementi per il disastro c'erano tutti, ma saranno rimasti nel prodotto finale? Ma il tempo poi ci ha permesso di scoprire un po' di più su questo gioco, sia per via dei numerosi trailer pubblicati, ma anche poi per le numerose anteprime fatte ad esempio alla Gamescom oppure al Tokyo Game Show. Insomma, piano piano Sonic Frontiers non era più così tanto disastroso. Ma nel prodotto finale cosa è rimasto di quegli aspetti disastrosi e cosa invece ha sorpreso. Ho avuto modo di giocare a lungo a Sonic Frontiers, ben 20 ore che mi hanno portato dall'inizio fino alla conclusione di questo titolo. Un gioco lungo, complesso e ricco di cose da fare. Il concetto di open zone effettivamente ha senso. Ha senso per un prodotto come Sonic Frontiers, dove Sonic non è più vincolato ai classici livelli, che ci sono e ne parleremo, ma viene inserito all'interno di questi grandi micro bondi che sono di fatto un enorme sandbox. E già, si potrà correre, sfrecciare, saltare sulle rotaglie, concatenare acrobazie, saltare sugli anelli, distruggere i nemici che ci permetteranno di fare come sempre da gancio per andare avanti nelle varie acrobazie. Insomma, tutto questo è un unico grande minestrone, un unico grande nucleo che compone le Starfall Island. Cinque isole da poter esplorare, ognuna con un bioma diverso, eccetto le ultime due. E già, perché subito dobbiamo tirar fuori l'elefante nella stanza, c'è un po' di pigrizia in questo Sonic Frontiers. Infatti, se le prime tre isole hanno tutte un bioma diverso, la prima è una sorta di pianura mista collina, mista cascata, la seconda è invece ambientata nel deserto, molto molto bellina, devo dire la più bella, secondo me, del gioco. La terza invece è ambientata in quest'isola fluttuante, mista vulcano. E infine, la quarta e la quinta sono nuovamente una collina pianeggiante come la prima isola, anzi proprio gli asset sono esattamente gli stessi, semplicemente cambia la forma, un po' più piccoline, cambiano alcune cose, però di fatto si poteva fare un po' di più, nel senso, cavolo, sono cinque isole, fai un altro bioma, fammelo di ghiaccio, fammelo d'acqua, cioè fai un'altra roba. Peccato per questa, secondo me, eh, cioè, sta scivolata così, non proprio entusiasmante. Ma veniamo però a noi, cioè il gioco, il gioco funziona, il gioco diverte? Sì, il gioco è divertentissimo, ragazzi, cioè, pa' dalla mano, è una delle esperienze più belle di Sonic mai viste finora. È paradossale, perché uno se ci pensa, continua a dire, ma com'è possibile? Stiamo parlando veramente di Sonic Frontiers, di quel gioco che dicevano lento, eh? E invece no, Sonic è veloce, Sonic è reattivo, anzi, forse un po' troppo reattivo. Ecco quindi che le open zone, quindi questi grandi mondi esplorabili, diventano in realtà un enorme parco giochi dove possiamo fare quello che vogliamo. Infatti, se da una parte tutti pensavamo che i livelli del cyberspazio, questi livelli appunto dove Sonic compie dei classici livelli come i titoli più tradizionali di sempre, dove tra l'altro puntano fuori i vecchi mondi, quindi Green Hill, Sky Sanctuary, Chemical Plant e Radical Highway, poi basta, perché sì, non c'è altro. Non so per quale motivo non hanno messo più mondi, cioè io mi aspettavo di vedere tutti a questo punto, non lo so, i mondi dei vecchi titoli di Sonic, una roba tipo Sonic Generation 2.0. Invece no, abbiamo solo questi aspetti, quindi immaginatevi il background dei livelli è di Green Hill, di Chemical Plant, di Sky Sanctuary e di Radical Highway, però la struttura dei livelli invece viene presa da tutti i livelli presi dai vecchi giochi di Sonic o quantomeno quelli più popolari. Ed ecco quindi che si crea da una parte un effetto déjà vu, dall'altra un po' un effetto del dire, ma scusate a sto punto perché non potete mettere direttamente il livello vecchio con quel tipo di sfondo? Tanto a livello di trama è giustificato, questo cyberspazio è proprio un enorme database, farvi troppi spoiler, di tutto quello che è il mondo, quindi tutte le cose che ha fatto Sonic e i suoi amici, perciò... ma la potevi giustificare sta cosa? E quindi se da una parte i livelli del cyberspazio potevano essere la punta di diamante, ecco che invece succede l'opposto, perché sì, belli sti livelli, simpatici, funzionali al progredire della trama e ovviamente del gioco stesso, ma in realtà sono di fatto un'aggiunta, quasi secondo me un paracadute di sicurezza per cercare di fare comunque contenti quei fan e comunque in generale il pubblico che pensando Sonic più Open World possono storcere il naso. In realtà fidatevi che una volta che inizierete a giocare a Sonic Frontiers, belli livelli del cyberspazio, ma tutta la vita l'open world, dove puoi muoverti liberamente, correre in lungo e largo, senza limiti e senza freni. È un po' veramente la perfetta collocazione per Sonic, tutti erano titubanti se Sonic sarebbe potuto riuscire a funzionare in un mondo aperto e in realtà in termini di gameplay, in termini di godimento del gioco, proprio puro aspetto ludico funziona alla grande. Cioè adesso io capisco quando il producer diceva eh noi vogliamo fare i giochi di Sonic così da qui a dieci anni ci sarà proprio il nuovo template se vogliamo per i prossimi titoli 3D. Adesso avendolo giocato, avendolo finito, io dico da anche fan di Sonic che gli ultimi comunque, Sonic Forces, ragazzi, cioè il più brutto, il più brutto in assoluto, in tre ore lo finivi, non c'era la trama, non c'era niente, tutto così. Questo non vi dico che siamo ai livelli di Sonic Adventure 2, ma quasi eh. Quindi in realtà c'è veramente un ottimo barlume di speranza, anzi proprio una speranza molto ricca e sono molto contento di ciò. E ve lo dico sono molto contento proprio a seguito di essere uno di quelli che fin dai primi gameplay diceva eccola là un altro gioco tragedia di Sonic, belli film ma sui giochi. E invece no, finalmente abbiamo avuto un prodotto valido, concreto e divertente. Ora non voglio cercare di allungarmi troppo con i tempi, però ragazzi, parliamo anche delle novità di questo gioco, ovvero Sonic combatte. Non ci sono più i classici attacchi a ricerca, o meglio ci sono, ma sono diversi, si possono fare anche da... rimanendo a terra, non devi per forza saltare, però c'è tutto un albero delle abilità ricco appunto di queste combo. Sono attacchi particolari, molti si sono anche già visti nei trailer, c'è l'attacco che Sonic gira, quello che spara i colpi così, i colpi incrociati, insomma ce ne sono diversi. Si sbloccano senza eccessiva fatica visto che comunque i punti abilità si guadagnano facendo tutto, cioè saltando, correndo, saltando, attaccando, facendo i livelli, sbloccando le cose, quindi si ottiene veramente di tutto e di più. Ma ho notato che sebbene l'albero delle abilità non sia proprio così lungo, non sia così enorme, si riesce a finire tutto l'albero delle abilità appena arrivati alla terza isola, perlomeno questo è successo a me. Magari è perché io mi sono un po' fermato a fare qualche cosettina di extra, di secondario, magari tirando dritto le abilità, le sblocchi praticamente a pochi passi dalla fine, però personalmente le ho sbloccate tutte quante, non dico relativamente presto, ma quasi. Tant'è che poi voglio anche parlare della personalizzazione e dell'HOD perché sì, l'HOD a sto giro è un po' più corposetto per essere un titolo di Sonic. Abbiamo, come al solito, il numero dei ring, il numero delle chiavi di sigilli ed emblemi che dovremo sbloccare nell'open world, scusatemi, open zone, scusatemi, mi sono sbagliato, e poi avremo anche una sorta di tachimetro, cioè per farci vedere a quanto stiamo andando. Abbiamo il indicatore dei punti abilità e poi un indicatore delle statistiche di Sonic, perché sì, in questo gioco Sonic ha pure le statistiche, l'attacco, la difesa, la capacità totale dei ring e la velocità. Ora, ad onor del vero, sì, belle le statistiche, sì, ogni volta che potevo mi potenziavo l'attacco e difesa, però quelli della velocità o della capacità dei ring. Posso pure capire la capacità dei ring perché comunque può sempre servire averne, no? Di più. Ma della velocità? Non lo so, a me non è che mi è sembrato che andasse poi più veloce, tra l'altro addirittura nelle impostazioni di gioco potete modificare la velocità di Sonic, cioè potete fare in modo che Sonic vada più lento o più veloce in base alle vostre preferenze. Idem per la telecamera, per addirittura l'altezza del ribalzo, cioè potete fare un sacco di personalizzazione e questa cosa comunque è super positiva perché magari c'è gente che gioca per la prima volta a Sonic, vuole un attimino capire dove si sta muovendo e quindi ridurre la velocità per tararla ad un certo stile di gioco, perfetto, ci sta. Tanto che all'inizio del gioco vi chiederanno proprio se avete già giocato ad un gioco di Sonic. Io ovviamente ho messo sì, ma lo devi pure chiedere, però mi immagino che mettendo invece no, non ho mai giocato, ti tarano le sensibilità in movimento e tutto il resto per i neofiti, quindi ottimo. Combattimenti belli, utili, ma soprattutto diversificati, perché sì, sparsi per le open zone ci sono questi guardiani, questi strani alieni dalle forme più bizzarre che un po' all'inizio ci avevano fatto storcere il naso, ma che poi fidatevi, in gioco vengono tutti ben contestualizzati e sono molto, ma molto divertenti, anzi, sono la vera punta di diamante del gioco. E già perché alcuni ci richiederanno un po' più di ragionamento, alcuni ci richiederanno di combattere all'interno di piccole arene da wrestling, altri ci richiederanno di sfrecciare in cielo per poi planare proprio sulla loro testa. Insomma, ogni combattimento contro ogni guardiano è ben diversificato. Ci sono quelli un po' più diretti e quelli invece un po' più scenografici, quelli un po' più spettacolari. E questa cosa comunque l'ho apprezzata molto perché veramente è una ventata d'aria fresca anche proprio a come Sonic si approccia ai combattimenti. E di fatto tutti i guardiani sono, chi più chi meno, delle boss fight. Quindi ce ne sono veramente tanti. Ma poi veniamo a quello che succede nell'isola, cioè un enorme loop. Vi dico, fatta la prima isola capirete come bisogna muoversi anche nelle altre, e cioè bisogna salvare i nostri amici. Come li salviamo? Bisogna liberare. Come li liberiamo? Sconfiggendo il titano gigante dell'isola, che ci arriviamo fra pochissimo. Per poter affrontare il titano gigante dell'isola bisogna recuperare i Chaos Emerald. Come si recuperano i Chaos Emerald? Bisogna sbloccare i sticosi dove ci sono i Chaos Emerald. Per poterli sbloccare servono delle chiavi. E per poter prendere le chiavi bisogna andare nei livelli del cyberspazio. E per poter andare nei livelli del cyberspazio servono dei sigilli. E per poter prendere i sigilli bisogna fare altre cose. Insomma, è un enorme loop di attività conseguenziali che spiegate vi fanno venire il mal di test. Sono sicuro che già vi è venuto, ma giocando è perfettamente naturale e lineare. Inoltre, siete liberissimi di farlo quando e come volete, perché addirittura, strano, in Sonic Frontiers si può pescare, perché c'è un minigioco di pesca per ogni mondo, e potreste persino passare un'ora a pescare, convertire i punti per prendervi quello che vi manca e potreste persino saltare dei livelli del cyberspazio, saltare delle boss, cioè potete fare quello che volete. L'importante è che arrivate a quel determinato numero di chiavi, emblemi e sigilli, al fine di poter poi ottenere comunque sti Chaos Emerald. Presi tutti i Chaos Emerald, ecco che Sonic diventa Super Sonic. Questi scontri colossali contro i titani, chiamati così, sono fighissimi. Tra l'altro la musica, perché il dubbio era, ah ma sta musica adesso come sarà? Sarà depressa? E nell'open world è una musica molto più tranquilla, molto più ad agio, ma in realtà quando si combatte, quando c'è una sfida, quando c'è qualcosa, ecco che tornano quelle vibes, quelle vibrazioni invece molto molto più vivaci, roccheggianti, ma proprio anche hard rock metal puro, del classico Sonic dei Tempi d'Oro. È veramente particolare perché è anche poi un Sonic che in qualche modo riesce a collegare tutte le precedenti avventure, fa tesoro delle esperienze fatte in passato. c'è una scrittura dei personaggi sorprendentemente fatta bene, cioè non sono robe come su Sonic Forces che erano proprio per bambini, una roba troppo blanda. Bravi! E si vede perché alla penna di questo gioco c'è Ion Fling che è uno scrittore, sceneggiatore dei fumetti di Sonic, molto apprezzato dai fan e finalmente l'hanno messo a capo della trama, diciamo così, di un gioco e secondo me non lo lasciano fuggire, visto che ha fatto un ottimo lavoro, veramente bella la trama. Quindi i difetti ci sono, sì, i comandi a volte non sono proprio precisissimi, sebbene siano molto reattivi, perché sono super reattivi, non sono precisissimi. Si rischia molte volte di cadere di sotto quando si è magari in posti molto alti e quindi ti devi rifare tutta la cosa da capo. Quando si gioca nei livelli del cyberspazio, se ti devi muovere poco a poco a destra o poco a sinistra, non lo puoi fare, cioè perché o prende e va via tutto a destra o prende e va via tutto a sinistra e si rischia anche lì di cadere, si fa prima molte volte a ripartire da capo nei livelli. Non è un comando proprio perfetto, si vede che i comandi sono rimasti tarati per l'open world però anche nei livelli più lineari e questa cosa non va bene, secondo me avrebbe dovuto proprio attuare due differenti modi di controllare Sonic, due modi diversi di reagire, uno strutturato proprio per quei livelli e l'altro invece per l'open world che funziona con qualche sbavatura. Poi sì, c'è il pop-in ragazzi, c'è sto pop-in degli oggetti terrificante perché comunque non è giustificabile, si appaiono addirittura a volte proprio delle scatole a pochissimi metri, sembra il pop-in di Pokémon Spade Scudo e Legend of Zeus. Nel 2022 un po' mi fa storcere il naso questa cosa, però c'è da dire, sì c'è il pop-in, sì è brutto da vedere, ma quando si gioca non è una discriminante, cioè non è che il pop-in ti impedisce di capire dove andare, perché tanto nel momento in cui stai facendo un blocco di rampe, di rotaie, di salti, ti compaiono tutti conseguenzialmente, quindi hai sempre l'occhio su Sonic e la sua prossimità e non è che ti capita di non vedere l'ostacolo, ecco quello non è mai successo, perciò l'esplorazione è sempre godibile anche al netto di questi effetti vistosi di pop-in. Quindi Sonic Frontiers è un bel gioco di Sonic? Sì, ma non è ottimo. Ci sono queste sbavature tecniche, ci sono queste a volte pigrizze se vogliamo, un po' tecniche, un po' anche proprio di scelta, i livelli del sabespazio che potevano essere di più diversi, soprattutto in termini di biomi, si poteva fare una differenziazione soprattutto delle ultime isole, si poteva evitare di fare il solito giochino, di alzare la difficoltà per prolungare il tempo, però nonostante tutto finalmente c'è una ventata d'aria fresca per i giochi di Sonic e questo se all'inizio di una nuova era è palese e sono molto ma molto fiducioso perché dura in avanti, se i giochi di Sonic verranno fatti così a migliorare, allora Sonic finalmente avrà un ottimo futuro non solo con i film ma anche con i videogiochi. Ed è per questo motivo che a Sonic Frontiers gli do un bel 7.8. Non gli do l'otto perché, eh, ha quelle sbavature, però sappiatelo che per me è uno tra i giochi a questo punto più belli di Sonic mai usciti finora, quantomeno negli ultimi dieci anni. Nell'attesa di giocare a Sonic Frontiers però, se ti va, puoi vedere l'ultimo video uscito finora qua alla mia destra oppure a sinistra, tutte le news del Frank News per rimanere sempre aggiornati, le notizie videoludiche, tecnologiche e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.